Ciao, sono un Mac. E io sono un PC. Wow, wow, che è successo, PC? I bambini. Mi hanno comprato per una casa. Ora devo fare film, blog e ascoltare musica. Ogni sera piango finché non mi addormento in stand-by. Mi dispiace. Tu stimoli le testoline degli undicenni col jazz del tuo e-life. Io voglio solo far quadrare i loro bilanci. Io non credo che gli undicenni abbiano bilanci. Niente bilanci, niente poste in arrivo, niente impiegati. Solo libera immaginazione. Ecco, devo andare a sentire un po' di metal. Grazie a tutti.